Basilicata. Liste d'attesa in terra lucana, 2 milioni di euro per recuperare 37.000 prestazioni entro il 31 dicembre. Il recupero dei tempi delle liste di attesa rappresenta un obiettivo prioritario per il sistema sanitario regionale e di conseguenza una sfida da vincere a tutti i costi. Lo scorso 28 ottobre si è insediata l'unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi di attesa ed è stato nominato il RUA scompetente, oggi arrivano i primi provvedimenti correttivi. Ha espresso così la propria soddisfazione l'assessore alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico, nel comunicare le prime azioni afferenti al nuovo piano regionale di gestione e governo dei tempi di attesa.